Ciao a tutti e buona domenica! Nuova recensione, come sempre a tema Barbie. Oggi andiamo a scuola perché, Barbie, appunto, abbiamo I Can Be, la serie maestra. Allora, vediamo un po' la scatola. Come potete notare, la nostra scatola è sempre composta da questo enorme e immancabile blister che sovrasta il tutto, però, diciamo, la parte in cartoncino, invece, è molto definita e sembra proprio che stiano proprio in un'aula, ecco, quindi si compensa molto. Allora, sulla parte frontale abbiamo il nostro immancabile artwork di Barbie con Teresa e Nikki, che ha dei libri, la lavagna può essere, ci può girare, quindi possiamo cambiare materia, diciamo. È consigliato dai tre anni su, poi dietro, sì, dietro abbiamo, come sempre, le solite blog Barbie, qui ci dice che praticamente è un bumble playset, questa si chiama proprio maestra, in varie lingue, c'è anche teacher, maestress, insomma, nelle varie lingue, e in italiano ci dice che le maestre ispirano i bambini e fanno loro scoprire il mondo. Questa è una panoramica di quello del contenuto, qui le solite avvertenze, possiamo trovare anche Teresa in questa versione, con la bambina che ha i capelli biondi, e ovviamente c'è Barbie pediatra, perché questa fa parte della serie I Can Be, può essere tutto ciò che desideri. Bene, io direi che per la scatola non c'è altro da dire, adesso la andrò ad unboxare, e poi vedremo nei dettagli questo delzioso set. Se vi interessa, io l'ho presa in un negozio di giocatole che si chiama Dr. Toys, e l'ho pagata a 24,90€. A fra poco. Ed ecco qui il nostro set. Allora, come potete vedere, tutto il contenuto. Vabbè, questa l'ho aggiunto io per pettinare Barbie. Allora, partiamo dalla maestra. Allora, Barbie, appunto qui, è un insegnante. Come potete vedere, indossa degli occhiali. Una cosa che mi ha lasciato sbalordito è che praticamente, adesso l'ho rimossa, c'erano attorno al viso questa plastica qui per proteggere gli occhiali, perché diciamo che era messa proprio qui sulla fronte. A volte è capitato che con le Barbie che poi indossassero gli occhiali, rimanesse il segno. Quindi finalmente, una cosa positiva, hanno messo questa foderina che praticamente copriva tutto il viso, in modo che nella scatola non rimanesse il segno. E quindi potete rimuovere e farglielo tenere come volete. È capitato parecchie volte, sono lamentati alcuni, che non potevano rimuovere gli occhiali perché rimaneva il segno della scatola. Invece, con questa protezione, hanno centrato in pieno. Vediamo la Barbie. Allora, il trucco, come potete vedere, indossa degli occhiali neri. È molto bella. E il trucco, come ho già detto, ha del fard e del mascara color azzurro. Mentre ha un rossetto fucsia. Indossa una fantastica camicetta con tantissimi poids bianchi e che è predominanti da uno sfondo azzurro, jeans, più che altro, con due taschini disegnati. Come vedete, anche questi qui bottoncini dorati, sono tutti disegnati, però ben fatti. E ovviamente, dietro, ha l'apertura in velcro, quindi facilitato. Un simpatico pantaloncino giallo, molto bello, semplice. E delle scarpe da ginastica quasi, sì, direi, bianche, tipo Adidas. Modello ballerine basse, quindi senza tacchi. Quindi un trucco semplice, ma d'effetto. I movimenti, diciamo, non è snodata, però possiamo comunque piegare le braccia in questo modo, girarle a 360 gradi. Quindi comunque permette una buona giocabilità. E le gambe anche, si possono allargare così. Quindi, insomma, comunque, pur non essendo snodabile, ha un buon tasso di giocabilità. E come ho detto, gli occhiali poi possono essere anche rimossi senza alcun problema. E quindi, eccola qui. Poi, ovviamente, nel contenuto, ovviamente, arriva questa deliziosa bambina, che è veramente carinissima. E guardate qui che viso dolcissimo. Ed ha questo vestitino rosa, con una taschina qui sempre disegnata, e sotto una camicetta blu con varie fantasie. Dietro anche lei ha delle tasche e l'apertura sempre facilitata, il velcro. Ed ha delle scarpine rosa. Molto bella questa bambina. Mi piace un sacco. È davvero deliziosa. E ovviamente poi c'è come accessorio la sua borsetta, che ha forma di cuoricino. E il suo orsacchiotto. Poi, ovviamente, la sedia su cui farla sedere. E poi c'è la nostra scuola, che praticamente c'è la lavagna, che possiamo tenerla sia da questo lato, oppure girarla. E una cosa che ho gradito molto sono questi oggetti che già sono usciti stampati, ma si possono staccare, vedete? Perché hanno praticamente l'incastro facile. Quindi abbiamo questo qui, che sono una serie di libri, con la scritta Barbie, non so se si riesce a vedere. Poi abbiamo un criceto nella sua gabbietta e una piantina. Qui, invece, altri libri stampati, degli zaini. Poi, diciamo che il vano del tavolo è azzurro, con il logo sempre Barbie, mentre la parte sotto è sempre in plastica, ovviamente, però color legno. e dietro c'è appunto il cartoncino, ed è fatto così. Ovviamente sopra c'è un orologio, che appunto segna le ore scolastiche. Bene, amici, io direi che la nostra recensione finisce qui, anche perché fra un po' iniziano le lezioni, quindi diamoci una sistemata. Vi auguriamo una buona settimana, e vi diamo appuntamento al prossimo video. E se ovviamente siete appassionati di Barbie, iscrivetevi al canale. Ciao!